Oltre 70 chilometri di rete da riqualificare in sei mesi, un sistema di telegestione per la verifica del funzionamento delle lampade, semafori innovativi nelle frazioni passo, calore e piano pantano, videosorveglianza con lettura targhe. Mirabella si rifà il look. A gennaio partiranno gli interventi di ammodernamento tecnologico dell'impianto di pubblica illuminazione. I lavori, per un importo di oltre 2 milioni e mezzo di euro, sono a carico di una società privata che si occuperà anche della manutenzione. Nessuna spesa dunque per il comune, solo risparmio energetico. Il progetto è stato illustrato ai cittadini nel teatro comunale dedicato ad Assanti. Parliamo di 76 chilometri di rete nelle zone centrali e periferiche del paese. Con questo progetto una società privata, con il project financing, investirà a Mirabella e Clano oltre 2 milioni e mezzo di euro per sostituire tutte le lampade, che sono 3.200 con lampade LED, rimettere a norma tutto l'impianto. C'è un grande lavoro di risparmio energetico, perché noi andremo a risparmiare più di un milione di kilowattori all'anno e soprattutto ridurremo l'inquinamento da illuminotecnico, da luminosità. Quindi un intervento molto importante, dove il comune non spende soldi, dove andrà a risparmiare anche sulla rata annuale, perché allo stato attuale noi paghiamo circa 300 mila euro di energia elettrica, oltre a quelli che sono i costi per la manutenzione. Credo che estate, fine estate, avremo tutto l'impianto in perfetta funzionalità. L'intervento è già partito da circa un mese, stiamo già adeguando tutta la parte delle infrastrutture che aveva più necessità di ammattornamento. Il progetto vede la cosa più importante, la sostituzione di tutte le lampade, che oggi sono alogene, quindi con consumi importanti vengono sostituite con lampade LED e pensate che si passa da 400 kilowatt circa di potenza delle lampade a 170 kilowatt. Solo questo vi fa capire il risparmio energetico che ci sarà poi nei prossimi anni. Inoltre verranno fatti tre impianti semaforici nuovi, su tre zone dove serve mettere dei impianti semaforici di nuova generazione, quindi che ti danno anche il timer di quando si accende il rosso e il verde. Viene fatta una nuova tratto di linea interrata anche lì perché serve sottolineare quell'aerea. Verranno messo circa 12 telecamere per lettura e targhe che serviranno al Comune per la gestione e la sicurezza del territorio.